Forse non sapete che è la fontana del pescatorello che si trova in piazza del Duomo è soprannominata Fontana del Papero per i cigni scolpiti sul bordo delle basi. Essa fu realizzata nel 1861. E che porta mercatale fu il primo obiettivo dell'esercito spagnolo per entrare in città durante il sacco di prato? Questa porta e i pratesi resistettero all'assedio un intero giorno. Era il 28 agosto del 1512. E forse non sapete che, al Museo del Tessuto di Prato, viene proiettato il primo film in 3D sulla lavorazione del testo. Un viaggio fatto di sogni, passione, energia. Si avvertono i signori spettatori di spengere gentilmente il cellulare. Pronto, si, ti chiamo dopo, ti chiamo dopo, ti chiamo dopo. Sarà meglio. Sarà meglio. Sarà meglio.